Acquistano i carichi di droga all'estero e li importano in Italia. Fino a ieri la polizia di Catania ha arrestato sei grossisti della marijuana che avevano appena comprato il carico da mille chili in Albania. Doveva finire sulle piazze di spaccio di Picanello. Cambiano i luoghi ma lo scenario resta lo stesso. Ashish e cocaina questa volta. La guardia di finanza di Palermo da due anni segue la rotta del traffico proprio di Ashish nel Mediterraneo. Dal Maghreb verso il vicino oriente fino ai Balcani e all'arresto d'Europa. Così operano le cosche mafiose per fare cassa. Sviluppando però un'operazione di polizia internazionale, la Rosa dei Venti, in due anni è stata controllata una trentina di natanti. Sono state arrestate 200 persone e sono stati sequestrati 400.000 chili di Ashish e 500 chili di cocaina. Italia, Francia, Spagna, Grecia e Marocco si fa barriera contro la criminalità organizzata. Ma le indagini continuano e a giorni ci saranno risvolti.